che viene riconosciuto universalmente il più grande animo del mondo che è Marcel Marceau. È un ragazzo che sicuramente farà una grandissima strada in Italia perché è stato già notato da Pippo Baudo e tutte le volte che Pippo nota qualcuno generalmente poi lo porta ai vertici della popolarità. Noi abbiamo il piacere di proporvelo questa sera, il suo nome è Ugo Suarez. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uccello Medusa! Medusa! Farfalla! Serpente! Il dito! Il dito di Ronald Reagan! Il dito di Ronald Reagan! Il dito di Ronald Reagan! Finito! Adesso facciamo camminare in un punto! Camminare contro il vento, ma voi dovete essere il vento, ok? Così! Il dito di Ronald Reagan!